Affrontare i temi dell'economia globale e quelli dell'ecologia in un momento così particolare per il nostro pianeta come quello dovuto agli sconvolgimenti climatici, ma passando attraverso la spiritualità, un concetto importante, un concetto che porta verso la resilienza, un concetto attraverso il quale tutti i problemi possono essere analizzati e vissuti con uno spirito diverso, lo spirito della comunione, lo spirito che da sempre anima i popoli. Se ne parla nel corso del Festival dell'economia, della spiritualità e dell'ecologia, anche Lucca partecipa con un evento in San Romano con la presenza di numerose personalità. Il fatto che questa nostra società, che una volta conteneva l'economia, conteneva tutti i vari aspetti del vivere sociale, oggi ha determinato un rovesciamento, cioè l'economia che contiene la società. Cosa voglio dire? Che tutti gli aspetti della vita di una persona, anche quelli affettivi addirittura, anche quelli più semplicemente affettivi, hanno ormai un significato economico. Cioè l'economia ha incorporato la società. Questo, negli ultimi decenni, specialmente con le crisi finanziarie e anche con la crisi pandemica, è esploso e lo si vede nella mancanza di valori, nella mancanza di senso, che poi è quello che i giovani cercano, il senso. Perché si può avere il lavoro, sicuramente è importante, si può avere lo stipendio, si può avere la macchina, si può andare in ferie, si può fare tutto, ma molto per i giovani è importante cercare il senso.